Rossignol Hero Elite T 2018-2019, la novità della stagione con una nuovissima tecnologia che deriva dalla Coppa del Mondo. La tecnologia consiste nell'inserire all'interno dell'anima di legno, un elastomero e un segmento in titanal che rendono lo sci molto più facile, più adatto a collegare le curve una con l'altra e ad avere una grande capacità di effetto suolo. Sci creati per un utilizzatore che ricerca performance e aggressività di sciata.